I occhi devo ricaricare devo rifare Puff è pazza lei eh se mi sta ascoltando mi ascolta l'ascolto ho problemi di occhi devo fare aspetti che l'aiuto io che so un trucco aspetti qua un secondo lo so scusatemi super meta gay non si può fare questa cosa però mi faceva ridere